del telegiornale regionale della RAI. Prima seduta del Consiglio regionale, tribune affollatissime e subito l'elezione del nuovo presidente, eletto Antonio Mastro Vincenzo, del PD. Tutti i particolari nel servizio di Claudio Sargenti. 22 schede valide, 22 voti ottenuti, 9 gli astenuti. Con questo risultato il Consiglio regionale eletto Antonio Mastro Vincenzo, nuovo presidente dell'Assemblea Marchigiana. La decima legislatura si è aperta dunque questa mattina, poco dopo le 10. Presidente provvisorio Gianni Maggi del Movimento 5 Stelle come consigliere più anziano nella funzione di segretare i più giovani Manuela Bora del PD e Mirko Carloni di area popolare. Dopo la proclamazione ufficiale degli eletti il Consiglio ha deciso all'unanimità di non procedere alle elezioni di tutto l'ufficio di presidenza rinviando il voto alla prossima seduta per permettere quindi le entrate in vigore del nuovo statuto che non contempla nell'ottica del risparmio e dei consiglieri segretari. Poi il presidente dell'Aggiunta regionale, Luca Ceriscioli ha illustrato il programma del suo esecutivo e indicato i sei assessori che faranno parte della sua squadra di governo. Diciamo subito che il tassello mancante, l'esponente per la provincia di Macerata, è stato individuato questa mattina dopo una triangolazione che ha interessato oltre allo stesso presidente il segretario del partito, Francesco Comi, e il vice segretario nazionale del PD, Guerrini. Dunque sei assessori, tre donne, Emanuella Bora e Anna Casini per il PD, Loretta Bravi per l'Udc e Unica Esterna, tre gli uomini, Moreno Pieroni per Uniti per le Marche, Fabrizio Cesetti e appunto Angelo Sciapichetti del PD, quest'ultimo frutto dell'accordo politico di questa mattina. Le deleghe saranno assegnate domani durante la prima riunione di giunta. Dicevamo delle comunicazioni del presidente, si è rifatto Ceriscioli al programma preparato e presentato in questi mesi di campagna elettorale. 40 pagine che ha consegnato a tutti i consiglieri. In aula ha sintetizzato le priorità, il lavoro innanzitutto, l'utilizzo dei fondi europei, sfruttando anche le opportunità offerte dalla macroregione Adriatico Ionica, il credito per finanziare le imprese e ancora le infrastrutture materiali e immateriali, i fondi per il sociale, la grande partita della sanità con la sfida da vincere sull'accorciamento delle liste di attesa. Per la regione Ceriscioli pensa ad un ruolo di regia fra i vari soggetti interessati e tendo una mano alle opposizioni, ferme restando i ruoli diversi, piena disponibilità a collaborare e a votare tutti quei provvedimenti che vadano nell'interesse della comunità marchigiana.